L'amministratore di posta del dominio, cioè colui che dispone della password della casella postmaster-nomedominio.istensione, può verificare che gli utenti delle caselle del dominio abbiano impostato un indirizzo e-mail per il recupero della password e che lo abbiano validato. In questo video ti mostro come verificare. Collegati all'indirizzo webmail.aruba.it. Clicca il tab in alto Gestisci caselle dominio. Accedi con l'indirizzo completo della casella postmaster-nomedominio.istensione e la relativa password. Clicca Gestione in alto, poi Caselle a sinistra e seleziona la casella sulla quale vuoi agire. Seleziona il tab Gestione password. Nella sezione Validazione e-mail di recupero puoi verificare se l'utente ha eseguito o meno la validazione. In questo esempio l'e-mail di recupero risulta validata.